Abbiamo una bellissima piazza d'uomo piena, stracolma, che è degna di bighe nazionali e abbiamo voluto chiuderla con i ragazzi e con il candidato sindaco a testimonianza che noi siamo qui nel territorio, vogliamo crescere in questo territorio, vogliamo far risorgere questa città che è veramente ridotta al disastro. In campagna elettorale io avevo detto a Falcomatà perché non aveva fatto fare i certificati rilasciati dai tabaccai. Benissimo, sapete che qualche giorno fa l'ha fatto fare, ha stipulato una specie di convenzione e il presidente di tabaccai l'ha ringraziato. Forza doveva ringraziare noi che l'avevamo detta. La stessa cosa il signor Falcomatà l'ha fatta per il condone di lizio. io ho detto che è strano, tu hai 25.000 pratiche di condone di lizio da esaminare che ti possono portare 25 milioni di euro nel bilancio e non le hai utilizzate perché potevano servire per fare tante cose, anche le manutenzioni delle strade. Bene, dopo una settimana ha fatto la delibera che dà l'incarico agli uffici per andare avanti. Ma se sarà lui non le porterà avanti perché non sa nemmeno dove iniziare. Il condone di lizio a Genova in un anno l'abbiamo completamente abbattuto, non c'è più. Abbiamo incassato i soldi che sono serviti per fare altre azioni. Ho detto, caro Falcomatà, ma perché non hai fatto i contratti di alienazione di immobili già deliberate nel 2012? Mi portava 35 milioni di euro, ma non sai nemmeno cosa fare perché tu sei abituato a spendere, non a capire come il buon padre di famiglia che prima ci vogliono le entrate, altrimenti pagano di più i cittadini. E così noi abbiamo che la tassa dei rifiuti è al massimo la più alta in Italia e il servizio è il più scadente in Italia. Fa schifo! Una bellissima campagna elettorale, veramente intensa, una campagna elettorale anche calda perché l'abbiamo fatta in pieno agosto e metà settembre. Una bellissima realtà che io ho visto tra la gente, la gente che si è avvicinata sempre di più a me e mi spinge verso questo traguardo che sicuramente noi avremo lunedì sera, la conquista di Palazzo San Giorno. Cinque minuti per i prossimi cinque anni e manderemo a casa un'amministrazione inefficiente, un sindaco inetto che ha fatto solo danni a questa città. Il disastro è sotto gli occhi di tutti voi, vi prego datemi una mano per cambiare questa città. Vi ringrazio, buona serata a tutti!